una fantastica uscita per quanto riguarda jordan questo modello in consegna agosto 2010 si tratta di una jordan 1 eccezionale tomaia completamente in nabuc nero inserti della tomaia catarifrangenti sempre in nabuc ma come vedete in questa parte è catarifrangente tutto quanto lo stitch della scarpa e i cami sono bianchi quindi vanno in contrasto con quello che è il resto della tomaia bellissimo il colore dello swoosh questo azzurro che poi viene ripreso anche nel logo ricamato laterale jumpman dietro ricamato con in questo giallo fluorescente come i lacci e anche l'interno della scarpa bellissimo anche questo contrasto sempre in giallo fluorescente nell'intersuola su tutto il perimetro della scarpa la lingua è in grigio la label nera con il jumpman e la scritta air sempre che riprende il giallo fluorescente è una scarpa assolutamente da avere per tutti gli amanti di jordan è una limited edition disponibile su move nike jordan 1 nabuc